Dov'è il pollice? Dov'è il pollice? Sono qua! Sono qua! Come stai quest'oggi? Molto bene, grazie Vado via a casa mia Dov'è l'indice? Dov'è l'indice? Sono qua! Sono qua! Come stai quest'oggi? Molto bene, grazie Vado via a casa mia Dov'è il medio? Dov'è il medio? Dov'è il medio? Sono qua! Sono qua! Come stai quest'oggi? Molto bene, grazie Vado via a casa mia Dov'è il medio? L'anulare, dov'è l'anulare? Sono qua, sono qua, come stai quest'oggi? Molto bene, grazie, vado via a casa mia. Dove è il mignolo? Sono qua, sono qua, come stai quest'oggi? Molto bene, grazie, vado via a casa mia. Dove è l'anulare, dov'è l'anulare? Sono qua, sono qua, come stai quest'oggi? Molto bene, grazie, vado via a casa mia. Grazie a tutti.